Musica Quindi ditemi, e su questo dobbiamo essere chiari, se questa verità può essere più potente qui, meno potente lì, magari più forte, se si muovi, se fai qualcosa. Magari diventa noiosa questa verità a volte, no? Magari è anche troppo normale questa verità, no? O, invece, è una verità straordinaria. Can any of these descriptions convey or touch what that is? Qualche descrizione che possa trasmetterci o toccare quello che è? O forse non è che queste sono le percezioni e concezioni della mente? Immaginazione. E dimmi se tu sei qualcosa di diverso da questa verità, separato dalla verità e stai facendo il viaggio che eventualmente ti porterà alla verità. E ditemi se questa verità è un concetto? una sensazione, uno stato, uno stato, un posto? È veramente profonda, la verità? o altissima? Altissima? Or universal? Can it be known? Può essere conosciuta? E chi è che la conosce? Can it be found? E chi è che la trova? E poi può essere lasciata? E chi è che la perde? Can it be remembered or forgotten? E chi è che se la ricorda o dimentica? E quindi c'è verità e non verità? Magari, però, la verità è difficile. Magari, però, la verità è nascosta. È speciale. La verità sceglie quello che gli piacerà e quello che non gli piacerà. Magari devi essere fortunato. O indiano. Tutto questo viene nella mente. Chi è che se le compra, queste idee? Così che poi si trasformano in dubbi. Ma anche queste cose, come ho già detto, sono state comunque contemplate anche dagli stessi illuminati. E hanno trovato che c'è qualcosa che se non è lì, nessuno di questi altri può arrivare. e quello che hanno trovato è che se c'è un qualcosa, che se quello non fosse lì, allora niente di tutto questo potrebbe essere lì. Perché anche se il dubbio viene, la mancanza di credenza viene, se la verità viene, può solo arrivare perché la verità è già lì. perché anche se il dubbio viene, la mancanza di credenza viene, possono venire soltanto perché la verità è già lì. Noi siamo la verità. Questo non è un complimento che vi sto facendo. È un invito, sì, a venire a una irrifiutabile, completa chiarezza su questo. Il nostro incontro qui, momento per momento, non è altro che per questo. Almeno da parte mia. Voi decidete per la vostra parte. E come potrebbe essere questa verità una sorta di evento? Una cosa che succede? E quindi perciò stiamo aspettando che succeda. Perché non può avvenire così tranquillamente. è meglio non dormire, casomai ce la perdiamo. Is it like that? Ditemi se è così. Può la verità essere questo, questa cosa? se non ti agganci con nessun pensiero, se non tocchi questa idea di cosa avviene dopo, nel momento seguente. se non tocchi nessuna intenzione, niente del passato. e se non tocchi questo io, se non tocchi questo io, se non tocchi questo io, ma nessuno Джinn, no." Chi sei tu? Chi sei tu ? Chi sei tu? Tu sei quello che ricorda e tu conosci la memoria, puoi dire che la memoria è buona o, per esempio, è meno buona. Che cos'è che vede la memoria? E chi sei tu senza la memoria? Adesso, qui, senza attesa, senza ricordi, chi sei? Senza io. C'è bisogno di sforzo per questo. Chi sei tu senza sforzo? E che differenza ti può fare se c'è sforzo o assenza di sforzo? Sei in attesa? Sei in attesa? E che differenza ti può fare se c'è sforzo? E che differenza ti può fare se c'è sforzo?